Il Festival di Nanni è un primato, in qualche modo assoluto, perché si parla di 21 anni passati e il prossimo, questo che corre, il 22esimo anno di attività. Quindi direi che è la prima iniziativa di grande valore culturale di riproporre i capolavori del cinema restaurato e sono talmente tanti quelli che sono passati su quel grande schermo, certamente è uno dei più grandi schermi d'Italia in quel meraviglioso parco, a Nanni Scalo, dove via via le diamanti di questa iniziativa, sempre di più, sempre più numerosi, addirittura delle volte seduti sull'erba, perché non c'è più posto, o in piedi, stanno seguendo le avventure. Qualche volta accadono come dei film già visti naturalmente, in televisione, passati qualche volta, non tutti, perché in verità molti film sono condannati a essere programmati in televisione alle due di notte, alle tre del mattino, perché sono troppo intelligenti, o troppo colti, o troppo intriganti, o troppo provocatori, o troppo politici, tra virgolette, e quindi li sotterrano. C'è un'avventura in quelle proiezioni notturne che non sono tagliati da dieci piani di morbidezza, intendo dire che non c'è pubblicità e quindi il film scorre meglio. L'ho amato molto quel film perché ci sono due attori, una regia straordinaria, il direttore della fotografia ha poi lavorato con me, il Pasquale Nido De Santis, abbiamo fatto insieme Marco Polo, lo scenografo, anche con me, anche lui Ricceri, e poi il mio amico Ettore, il mio caro amico Ettore, e poi due attori straordinari, la Loren e Mastroianni. Quello che mi ha colpito in quel film, per questo ne parlo con emozione, arriva Hitler a Roma, siamo negli anni del fascismo puro, l'edificio, l'enorme edificio, che poi sono andato anche a vederlo dalla curiosità, ho fatto un sopravluogo posto, era in viare il 21 aprile, un grande cortile enorme, il palazzo si svuota perché vanno tutti alla manifestazione per l'arrivo di Hitler, quel criminale. Ebbene, rimane lì praticamente la Loren e il Mastroianni, direi, e tra i due nasce una curiosità, quasi un film, però lui annuncia e denuncia la sua omosessualità, tanto che quello stesso giorno, il giorno che intera Roma, vengono ad arrestare l'omosessuale e lo portano via. E' stato inventato un'altra cosa, il cinema dei ragazzi, mentre c'è il grande schermo per i grandi film, c'è anche un bello schermo, bello grande rispetto al televisore, ma grande, dove i bambini possono vedere, sono parcheggiati lì, buonissimi, e vedono dei cartoni animati, anche loro vedono dei cartoni animati già visti, ma li rivedono perché fanno così cose. Io sono stato più volte a vederli, a bocca aperta, girano la testa così a vedere, come se vedessero quel lupo spuntare per la prima volta, invece non è la prima volta, è la prima volta che lo vedevano. Allora anche questa è stata un'iniziativa bellissima, così come accogliente il ristorante, come sono accoglienti i padroni di casa. Sostenere questa iniziativa, primo, ricordare che intorno a quella zona non è che ci sono molte altre iniziative, e leader in questo senso, Narni, ricordare quello che è stato, quanto tempo, da 22 anni adesso sta maturando, di attività e di grande partecipazione, che è un contributo che fanno in una zona che è vasta e quindi può richiamare, anche perché alcune iniziative che dicevano a Terni non stanno decollando, anzi stanno decadendo, purtroppo, e quindi alla fine è molto importante tenere vivo questo faro di cultura, perché è importante, come è nato, un'altra zona iniziativa del cuore, del desiderio di dare voglia di conoscere, di conoscenza. E la gente è felice, per farla felice però bisogna organizzare, per organizzare bisogna spendere. E se il denaro per la corruzione è tanto, per la cultura è poco, bisogna fare in modo, forse, se diventa una fondazione, i contributi potrebbero essere anche di sponsor, che con dignità e con fierezza dovessero sostenere una cosa che è importante. Grazie.